Cosa sta succedendo? Che cos'è questa cosa? Ragazzi Allora, siamo a casa nostra Era un incubo? Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E così giochiamo a HelloNegbor E come molti consolini, anzi più attenti avranno notato Lo sfondo dietro di noi è tutto cambiato È tutto diverso perché sì, ci siamo finalmente spostati Nella piccola stanza che abbiamo adibito a studio E siamo felicissimi Anche se non abbiamo ancora finito di arredare Perché come vedete è pieno di parti bianche Esattamente Ovviamente faremo un video per mostrarvi il tutto Però prima vogliamo finire le ultime cose Mancano le tende, qualche pulpazzino Insomma, le ultime cosette Dopodiché uscirà un video per mostrarvelo Però siamo in questo gioco Allora, cosa c'è da dire? Prima di tutto l'hanno portato davvero praticamente tutti gli youtuber Perché Sta spopolando su YouTube sto gioco È troppo bello È davvero bello Come Sneak Tiff Due giochi davvero fantastici da giocare Sì, mi assomiglia molto Quindi perché non portare pure questo? Esattamente In che cosa consiste il gioco? Beh, dobbiamo spiare il nostro vicino Ha detto proprio semplice semplice Sta facendo qualcosa di strano in quella casa E noi dobbiamo scoprire che cosa Ma scusa, io adesso voglio dire una cosa ai consolini Ok Ma quando eravate bambini Perché a me sì succedeva Non vi capitava che i vicini facevano qualcosa di strano Troppo rumore Non vi veniva voglia di vedere che cosa combinavano? A me sì A me sì Ero sempre molto curiosa Quindi è fantastico poterlo fare in questo gioco Io ti voglio far sapere una cosa Perché questa cosa non te l'ho mai raccontata Da piccolo praticamente avevo speso tutti i miei soldi Per comprare una specie di pistola Che aveva una parabola Dove attaccavi delle cuffie E tu potevi sentire tipo fino a 50 metri di distanza Le cose che venivano dette Quindi io letteralmente spiavo i vicini Non avevo neanche idea di che esistesse una cosa Perché c'era un negozio di spionaggio Dove c'erano le cosettine Poi lo fate per giocateli per bambini Ma dove? Te lo giuro Serra capricciante Peggio di sto gioco Comunque iniziamo Visto che sei esperto dello spiare i vicini Vuol dire che sarei esperto in questo gioco È una cosa fantastica Sono un campione Allora Ovviamente non potremmo entrare dalla porta principale Secondo me è una cosa che non ha senso Oh mamma Scusa Sto cercando di abituarmi ai comandi E ancora non li ho ben capiti Quindi se vola qualcosina Non è colpa mia Buongiorno vicino Io direi che per prenderla Buonasera vicino Buonasera vicino Per prenderlo alla sprovvista Entriamo dall'entrata principale Ti piace? No per niente Allora Oh mamma mia Questa luce? Non lo capisco Vedi questa è la cosa più strana della sua casa Assolutamente la cosa Ma che sta facendo? Ecco qua Ci ho già beccato Vedi che te l'ho detto Porta principale No Ok Allora praticamente spieghiamo un pochettino Cosa succede? Lui sta davvero facendo delle cose strane nella casa Che dobbiamo scoprire Però Praticamente Ogni volta che ci becca Il gioco diventa più intelligente Quindi Prima volta siamo entrati dalla porta principale Adesso è chiusa Entreremo dalla finestra Sbarrerà la finestra Spieghiamo un pochettino dalla finestra Ok Sta guardando la tv No a me sembra che stia giocando Sta giocando Oh mamma mia È proprio inquietante Mamma mia Proprio paura No sta guardando la tv A spegnere la tv Ah no forse non prendeva bene Ok Comunque sta andando in un'altra stanza Dobbiamo capire sempre la posizione Perché altrimenti Ci becca Certo Altrimenti come facciamo? Io comunque voglio vedere Se la proprio Ah no Ok 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 La lasciamo aperta Così pensa che siamo entrati da lì E noi entriamo da un'altra parte È un diversivo Ok Sì mi sembra una cosa giusta Oh ma Non si vede nulla da queste parti però Non abbiamo una torcia No devi trovarla Se non trovi la torcia Non la puoi usare Allora noi ce ne andiamo in questa stanzina così Ci chiudiamo Così non ci becca Oh bene E lo freghiamo Questo che cos'è? Sarà un generatore Mamma mia che paura Abbiamo aperto il garage Ok Però bisogna fare attenzione Perché se facciamo chi ha su questo se ne accorge Giustamente se ne accorge Infatti ci allontaniamo un attimino Arriva no? Tutto a posto Sembra tutto ok Sembra tutto ok No ma lei è qui? Sì No vattene Che scherzi Che scherzi L'ho visto all'ultimo Mi sono spaventato un po' E certo Si sta ancora guardando la tv È molto Penso che finché è accesa la tv Lui la guarda Guarda quante porte ci sono Eh sì lo so Portano tutto allo stesso punto Che sarebbe qua Ok Ok e qui c'è un'altra porta Oh finalmente Oh finalmente pro giorno Dai Ci metterà di più lui Ma almeno vediamo Guarda che bella grafica che è il gioco Bella Sì mi piace un sacco Che cos'è? Lo vedi che le cose sono al contrario? È una stanza al contrario Sì però la porta è normale Allora è un prestigiatore Ok E secondo me fa sparire le persone Iniziamo a ipotizzare Ok No c'è davvero Ok Allora E qua cosa c'è? Qua ci sono Buongiorno Aspetta forse sto riuscendo a salirci Questa è la camera da letto Vedi? Ok Nel letto c'è qualcosa Sì però non si capisce Ah ah È un libro Un libro Un libro Magari ci sono delle informazioni Certo sì Potrebbe essere una cosa importante Da prendere Vedi almeno stiamo iniziando A vedere tutte le stanze Capire cosa abbiamo attorno Esatto Ok non ma No Non sono trappole No Sono No Ma ci faccio Sono trappole Quindi anche prima Abbiamo preso una trappola Hai visto che trappola era? Una trappola per orsi Sì Scusa È pazzo Allora Già che lo dobbiamo spiare Certo che non ha tutte le rotelle a posto Però mettere anche nel cortile Queste trappole Di giganti Ma c'è differenza? Tra uno da spiare Per dei dubbi E uno che mette Trappole per orso nel giardino Oh mamma mia È fantastico Allora Da ora in poi Scusa un attimo Sì In questo c'è un frusaglie di cose Non è che magari c'è una torcia C'è qualcosa che ci può servire Scusa È caduta la palla È caduta la palla Nel suo giardino Dove è finita? Scusi L'ha vista? Ha vista la palla? Tira gliela in testa Se lo merita Dopo Che ci ha messo il trappole per orsi È impossibile pure vederle le trappole qua E dobbiamo stare attentissimi Allora Ma da qui non si può entrare Volevo entrare direttamente nella camera da letto Perché secondo me la camera da letto è il posto Ascolta Ascoltami un attimo Sì Gira qui a destra Ci sono delle scatole Ok Ho qualcosa che puoi prendere Quella lì in basso La vedi anche lì? Questa? La puoi prendere? Sì Per salire dalla finestra e entrare lì Perché secondo me è una stanza molto strana questa Ok Guarda se la puoi usare per salirci sopra Aspetta Sì Vedi così possiamo salire dalla finestra Bravissima E poi mi abbasso E ci posso salire Potrei spiare le case di tutti Fate attenzione Consolini Ok È fenomenale Ferini Che allora spostiamo le cose Facciamo un po' di ordine No facciamo silenzio prima di tutto Allora qui c'è Vedi che è una sorta di stufa di caldaia Sì che secondo me possiamo spegnere No Prova ad aprirla Neanche Non posso neanche quello Però qualcosa c'è per forza qui Sì Uh Ok Un martello Ok però non l'ho presa come arma Me l'ha fatto prendere come oggetto Che posso buttare Come oggetto Sì esatto Buongiorno È un bagno strano Chiudi la porta alle tue spalle Tu chiudi sempre le porte Ok Ok Perché così se arriva da qualche parte Ce ne accorgiamo Cos'è questa cosa nella porta? Un bug Ok Un bug semplicemente Questo bagno è strano Allora Ha chiuso questa porta? Sì 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 Allora Vi rendete conto che ha dato un tavolo Per chiudere la porta? La cosa che stiamo notando proprio di strano È che è pieno di cose in giro Proprio stra Pieno di cose anche buttate Così Come appunto per tappare porte Tappare entrare Ok Sarà ancora davanti alla tv? Non lo so È quello che prima di tutto voglio scoprire Nel caso è lì No No Vai indietro Aspetta 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 Scusi Perché alla fine da questa parte non c'è nulla Eh questo ci siamo dimenticati però Questo che cos'è? Video sorveglianza Sistema di video sorveglianza È una telecamera È una telecamera È una telecamera Ma secondo te è in funzione? Oppure è solo appoggiata? Perché non la vedo attaccata da nessuna parte Però fa paura perché sembra accesa con la spia Io provo Allora Sì Ok Non c'è nulla Non c'è nulla È un bait click questo È per fregarci È una bait sorveglianza Esatto Visto che c'hai visto? C'è una porta dietro Però c'è una porta dietro Ok Ok Vedi che c'è qualcosa di strano Comunque abbiamo appurato Che la telecamera funziona e ci vede Quindi perfetto Buona sapersi Buona sapersi Non è finita la videocamera Consolini Tranquilli Cosa sta succedendo? Che cos'è questa cosa? Ragazzi Allora siamo a casa nostra Era un incubo? Credo di sì Lo vedi che sta gironzolando per i fatti suoi? Era un incubo credo Oh mamma mia Ma Hai visto? Che Si è spaccata la finestra e l'hai passata attraverso Oh no È una persona molto strana Comunque cioè non ci sta proprio simpatico Cioè facciamo pure gli incubi su di lui Cioè non lo sopportiamo proprio Sta diventando un grosso problema questa cosa O lui o noi Ho pensato Visto che non troviamo una torcia da nessuna parte Non è che possiamo esplorare un po' Intorno magari trovarla? No Corri in giro Però tutto che sta A parte che si è spaccato il vetro Che prima questo risultava chiuso Invece adesso è spaccato Ne approfittiamo? Sì No No ci ha visto Mi scappo in casa Era di spalle Era chiudo di spalle Chiudi Chiudi tutte le porte Ci sta tirando qualcosa Non lo so Cioè ci tira le cose L'hai visto? Sicura? Sì Guarda Ma ti spaccato Disgraziato non puoi venire qua Ci ha tirato una mela Guarda che abbiamo già mangiato Grazie No scusa Guarda non ci interessa Puoi tornare a casa tua Ci tira trappole E' pazzo Cioè è totalmente matto E' totalmente matto Ritorna a casa tua Noi siamo a casa nostra Guarda ci stiamo mettendo a dormire Ha funzionato? Ha funzionato? Sì Si è calmato Dopo tante ore si è finalmente calmato Però è diventato di nuovo buio Ha spaccato anche qua Ha spaccato Ma vedi che è tutto diverso? Questa non era la camera da letto? Rossa di sicuro non me la ricordavo Ma non era questa? Guarda come ha bloccato qua No c'è qualcosa di stranissimo Che disgraziato Sì questa era la sua camera da letto Ti ricordi che prima abbiamo visto il letto col libro? Eh ma non mi ricordo Guarda le finestre Come era fatta? No No non puoi Ci ha sprangato la finestra No Ci ha sprangato la finestra Oh no Diventa davvero difficile E adesso come entriamo ragazzi? E' molto intelligente E' molto intelligente Fidi noi però Eh sì guarda Sta vincendo il confronto Vediamo se si è dimenticato di Non si dimentica di nulla Allora c'è di sicuro questa finestra In cui possiamo entrare L'aria aperta Beh se l'ha entrato Non nasconditi Che fortuna Sta correndo da una parte all'altra della casa Sta facendo cose strane È diventato ancora più difficile Allora Allora Qua non c'è nulla di utile Ok No Sì Sì Uh 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 Bello Prendila Perfetto 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 No No non buttarla Ok Ok Ha scoperto che le abbiamo rubato la torcia Scusa Cosa ci serviva Non la trovavamo Scusa Tutto a posto Ma di nuovo ci rilancia cose Siamo tornati amici Fagli segnali di luce per dire pace Ok Calmati Amico Tutto a posto Dai Dai la usiamo qualche oretta E poi te la restituiamo Promesso Non siamo di quei vicini Che non ti restituiscono le cose A me fa morire che ti tira le trappole addosso Mi fa davvero morire Guardalo Non funzionano Arrenditi Dai Su torna a casa Ti guardi la tua bella trasmissione televisiva preferita Direi che per questo primo video ci possiamo fermare così Abbiamo capito un po' di cose Abbiamo capito com'è la casa Abbiamo capito che è totalmente pazzo E abbiamo capito che ci sono tante stanze nascoste Quindi abbiamo ragione Sicuramente nasconde qualcosa di brutto Esattamente Quindi fateci sapere se volete vedere altri episodi Magari facciamo una miniserie Come per Sneak Thief Dove abbiamo intenzione di fare Probabilmente solo tre episodi Perché il gioco è piccolino Quindi nel caso Lasciateci tanti likes E fateci sapere appunto nei commenti Se lo volete vedere Bene ragazzi Se vi è piaciuto 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 E se la prima volta che avete Il nostro video Potete considerare Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao